La scorsa settimana abbiamo fatto un viaggio nel quartiere Portello di Padova. Gli effetti della crisi da coronavirus sono evidenti. Zona a forte vocazione universitaria, qui sono in crisi tutte le attività. Bar, locali, librerie e copisterie. Un quartiere che si è drammaticamente svuotato, chi tiene aperta la serranda lo fa perché cerca di resistere. Purtroppo sì, non sta neanche migliorando in queste settimane perché gli esercenti ci dicono che effettivamente è un deserto. Noi contiamo che l'Università di Padova muove circa 60.000 studenti e con le lezioni sospese in presenza e soltanto da remoto sono 60.000 persone che potenzialmente non frequentano più i pubblici esercizi della città e quella del Portello è una zona a vocazione altamente universitaria. Quindi non solo i studenti ma anche i docenti, il personale tecnico-amministrativo, impiegatizio e quant'altro. I pubblici esercizi stanno soffrendo in maniera molto importante e poi è anche una zona quella in cui venivano anche organizzate durante il periodo estivo delle manifestazioni, eventi di richiamo che in qualche maniera facevano anche lavorare un indotto di pubblici esercizi, manifestazioni che per le note cause Covid sono o molto ridimensionate o addirittura annullate del tutto e quindi gli esercenti stanno soffrendo in maniera drammatica. Non sappiamo quanti effettivamente vedranno l'apertura delle attività nel 2021. Può essere che entro la fine dell'anno molti di loro decidano di gettare la spugna. A tutte le amministrazioni comunali abbiamo chiesto di sospendere o rinviare o addirittura annullare tutto quello che è possibile annullare, rinviare e sospendere. Quindi dall'occupazione solo pubblico, all'asporto rifiuti, all'IMU e quant'altro. Certo che questi interventi sono interventi spot. Quello che è strategico e fondamentale è che riparta la domanda. Grazie.